Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dopo l'ufficializzazione del governatore che aveva rassicurato sul ripristino delle vecchie rotte sospese e dell'introduzione progressiva di sette nuove destinazioni, arrivano anche le dichiarazioni confortanti di Mistoliri, amministratore delegato della low cost irlandese, che proprio oggi ha dichiarato siamo estremamente grati al primo ministro Matteo Renzi e al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio per aver preso questa iniziativa per incrementare il turismo in Italia, cancellando la tassa municipale sui voli e la revisione delle linee guida sugli aeroporti. Il ministro Del Rio, a proseguito Liri, ha sfidato le compagnie a rispondere con piani di crescita se il suo governo avesse agito per migliorare la competitività degli aeroporti italiani e noi siamo lieti di essere la prima compagnia aerea annunciando il nostro più grande investimento in Italia. La low cost irlandese infatti presenta il piano di investimento nel dettaglio, un miliardo di dollari in 10 nuovi aeromobili, 44 rotte grazie alle quali il traffico aumenterà del 10%, passando da 32 milioni di passeggeri del 2016 a 35 nel 2017, decretando di fatto Ryanair prima a violine in Italia. Aumenti previsti anche per i posti di lavoro che saranno implementati di 2250 unità. A commentare il buon esito delle trattative arriva anche il ministro all'infrastruttura, Graziano Del Rio, che spiega come il governo italiano sia continuando il suo percorso di allineamento alle norme europee, norme che per inciso avevano creato la dipartita di Ryanair, bloccando di fatto tutti i finanziamenti di Stato nei confronti delle regioni. Grazie all'investimento garantito dalla compagnia di volo, spiega, si aprono più opportunità al turismo in Italia e soprattutto più occupazione. Salvi dunque, dopo non poche preoccupazioni, l'aeroporto di Alghero e quello di Pescara. Già da questa settimana infatti i voli torneranno in vendita.